Ecco, avete sentito Roberto Ammatuno, in questo momento non ci sono più migranti in questo spazio che era preparato per i rimpatri, è comunque una situazione molto confusa, perché poi guardate, è così, da una parte per esempio la Germania rafforza le frontiere, ma aiuta quelli delle organizzazioni sanitarie, le ONG non governative di aiutare i migranti, però poi loro dicono noi non ne vogliamo, è un po' un paradosso, questa storia non funziona tanto bene e stiamo vivendo di paradossi particolarissimi, per esempio guardate quello, dice ma tu che parli di politica internazionale, ma chi cavolo sei? Io lo capisco, ma un po' di testa ce l'ho anch'io. Quello che è successo in Slovacchia, in Slovacchia guardate hanno vinto i filorussi, cioè hanno vinto le elezioni, quelli che dopo il muro di Berlino avevano fatto di tutto per liberarsi dalla Russia, quindi ora vincono loro, ma su cosa basano? Su due cose, blocco agli immigrati e stop di aiuti all'Ucraina, perché? Perché gli immigrati purtroppo fanno paura a tutti, poi la Slovacchia è un piccolo paese, poi loro sono molto sciovinisti, non dico razzisti, ma hanno una cultura della loro identità storica, nazionale, molto forte, anche se sono, pensate che la Slovacchia si è divista dalla cechia, perché erano ciecoslovacchi, proprio perché gli slovacchi la pensavano in un altro modo dai ciechi, che erano poi la stessa, parlavano quasi la stessa lingua, anche se lo slovacchio è un po' diverso dal dal cieco. E poi stop a dare le armi all'Ucraina. Questa non è una follia, perché vedete la Cina ha detto una cosa importantissima, non potremo iniziare discorsi di pace se non smettiamo di usare le armi e per smettere di usare le armi bisogna smettere di darle queste armi, in modo che si capisca che è il momento di parlare. Se non facciamo questo, faremo guerra per anni ancora, in America rischiamo di non pagare gli stipendi per gli aiuti all'Ucraina, qualcosa bisognerà fare. Va bene, cambio argomento, andiamo invece dal PD, o meglio, andiamo a parlare di sanità, perché poi la questione sanità è stata affrontata in modo forte nell'incontro che c'è stato ad Agrigento, la festa dell'unità. È stata scelta la Sicilia per tutta una serie di motivi che ora sentirete che vengono anche elencati in parte dal segretario Schlein ed è stata una tre giorni interessante. Il problema sanità è stato affrontato un po' da tutti. Lo stesso Mattarella dice che il servizio sanitario nazionale è un patrimonio prezioso da difendere ed adeguare. Quindi non possiamo prescindere da difendere il servizio sanitario nazionale ed adeguarlo. La spesa sulla sanità è calata e invece dovrebbe aumentare. Perché? Perché purtroppo ci sono tanti vecchiarelli, come me naturalmente. E quindi grazie a Dio l'attesa di vita si è prolungata, quindi la gente vive di più, ma chiaramente vivendo di più ha un po' più di acciacchi, quindi occupa più spazi negli ospedali. Ma allora o ne ammazzate, ammazziamo tutti i vecchi, compreso me, oppure ci date aiuto. E quindi in qualche modo questa spesa deve essere riguardata. Devono essere fatte delle cose importanti, soprattutto per il pronto intervento, gli ospedali, per fare i pronto soccorsi. Comunque, quindi Mattarella dice che deve essere preservato e difeso, adeguato il servizio nazionale. Quindi questo è un problema principale. Ci sarà un convegno, ne parleremo poi dopo, vi ricordo gli appuntamenti. e questo è stato espresso in modo chiaro e forte dal segretario Schlein. Ora ci sono molte anime nel PD, c'era stato anche Bonaccini, che vi ricordo è uno che ha fatto una corrente, la chiamano il correntone. Lui è sempre un personaggio di grande spessore, alcune cose non gli piacciono. La Schlein probabilmente ha sulla coscienza il fatto che molti si stanno allontanando dal PD, anche se lei dice che non è così, che c'è tanta gente che si sta avvicinando. Non lo so se è vero, ma temo più che si stiano allontanando dal PD per alcuni atteggiamenti della Schlein. Noi abbiamo preso 4 minuti, 4 minuti che sono, non possono essere l'ora e passa di comizio che ha fatto, però questi 4 minuti sono un compendio delle cose in cui dobbiamo credere nella battaglia politica, la battaglia politica del PD o di Forza Italia. Non ci interessa, ma queste cose, sanità, trasporti e compagnia bella sono essenziali. La Schlein ha detto che sono venuta da Palermo di Agrigento con la macchina. E che non la sapeva che era così? Questa è la storia. Sentiamo la Schlein.